Come già sappiamo la femmina depone un solo uovo che misura oltre 7 centimetri di lunghezza e lo cova per circa un mese e mezzo. Beh, se pensiamo ai 21 giorni della gallina, qui lo potete vedere in uno dei rari momenti in cui entrambi i genitori sono a caccia di serpenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.